Che il Signore vi benedica tutti quanti e tutte quante, fratelli e sorelle, che il Signore vi benedica voi che siete sparsi in tutto il mondo e voi ogni tanto mi vedete, però non vi abituate a vedermi adesso ogni settimana, ogni otto giorni, perché sto programmando i miei viaggi per fare gli studi biblici, quindi è difficile che io possa stare con voi tutte le domenze. Tuttavia, ogni volta che potrò, lo farò, affinché non vi sia tolta del tutto l'abitudine. In verità, nella Bibbia ci sono così tante ricchezze. La Bibbia è un tesoro e ci sono tanti tesori nascosti e noi abbiamo bisogno di tanto tempo per meditare in ogni libro, in ogni capitolo. È molto interessante. A volte uno legge un capitolo e dice quanto è interessante, quante ricchezze ci sono in questo capitolo, qualsiasi capitolo della Bibbia. Allora, io desidero con tutto il mio cuore di poter stare con voi ogni tanto la domenica. Sicuramente a volte non ci sarò, ma appena avrò l'opportunità di stare con voi la domenica, continueremo con la lettura della Bibbia, con gli insegnamenti. Per esempio, adesso stiamo leggendo il libro degli Atti degli Apostoli, che sono i racconti delle esperienze dei primi discepoli, quando iniziò la Chiesa del Signore Gesù Cristo con gli Apostoli, nel giorno di Pentecoste. Lì iniziò la Chiesa, proprio quel giorno. Questa è anche storia, è la narrazione di una storia di tutto quello che vissero gli Apostoli. E anche leggiamo i miracoli che il Signore realizzò, alcune situazioni, alcuni eventi, e da tutto ciò noi impariamo tantissimo. Per questo, gli insegnamenti sono importanti, ma anche gli studi biblici sono importanti, perché lì troviamo delle domande. Gli fratelli e le sorelle fanno le loro domande, ed è molto importante per l'edificazione della nostra vita spirituale, della vita spirituale di tutti. Ed è molto importante lo studio biblico. Quindi, non voglio nemmeno smettere di fare gli studi biblici. Perciò, dovrò dividere il tempo negli insegnamenti e negli studi biblici. Poi, ci sono anche le meditazioni dei pastori, nelle quali impariamo tante cose. E speriamo che il Signore agisca nei nostri cuori, che Dio abbia misericordia di tutti noi, e che prepari i nostri cuori per imparare, per praticare e per ubbidire all'opera del Signore, quel lavoro che Lui ha posto di fronte a noi, e che noi possiamo così diventare delle persone responsabili e compiere gli ordini del nostro Dio. Per esempio, quando leggiamo nell'Antico Testamento gli ordini che Dio diede a Mosè, lì vediamo tanti requisiti che il popolo doveva compiere. E oggi noi vediamo che, allo stesso modo, oggi lo Spirito Santo ci ordina delle cose. Ci dice di andare avanti, ci dice di guadagnare tante anime per il Signore, ci dice di evangelizzare, di dare un bel esempio, una bella testimonianza. Quindi, il Signore continua a lavorare con l'essere umano. Perciò, miei cari fratelli e sorelle, quando io non starò con voi la domenica, non pensate che magari è finito tutto. No, perché io sicuramente in quel momento starò facendo uno studio biblico in un altro posto. Perciò, devo dividere il mio tempo. Sono molto contenta, allegra, felice, per tutti i risultati spirituali che abbiamo visto. Per tutti i miracoli, i prodigi, i segni che Dio ha fatto. Tutto quello che il Signore ha fatto durante la pandemia. Poi abbiamo visto i frutti. Abbiamo visto tante nuove facce in Chiesa. Perché durante la pandemia tante persone hanno ascoltato gli insegnamenti. A loro sono piaciuti e il Signore li ha portati in Chiesa. E questo ci riempie di tanta soddisfazione. Potete sedervi. Dio vi benedica, fratelli e sorelle, anche voi che siete qui con me in Weston. Potete sedervi. E oggi ci corrisponde la lettura di Atti degli Apostoli, il capitolo 3. Atti degli Apostoli, capitolo 3. E leggeremo tutto il capitolo. E così mediteremo nella parola del Signore con allegria. Leggendo e vedremo cosa troviamo per noi. Cosa troviamo per la nostra vita spirituale. Per crescere. Per crescere nella nostra vita spirituale. Capire la dottrina. Metterla in pratica. Ubbidire a Dio. Venire con un cuore sincero. Fare attenzione. Noi dobbiamo fare attenzione a non essere ipocriti con il Signore. L'ipocrisia è quando una persona finge un sentimento. Un sentimento che non ha nel cuore. Che non lo sente. Che non lo vive nel proprio cuore. E uno finge. E lo fa anche con Dio. Allora, noi, così facendo, arriviamo a peccare di ipocrisia. Quando veniamo in chiesa, quando diciamo, Signore, Signore. O quando diciamo, credo in Te, Signore. O Ti amo. O Ti lodo, Signore. Però, dall'altro lato, sto vivendo una vita peccaminosa. Una vita piena di errori. Di difetti. Di peccati. Dove la mia vita spirituale si distrugge. E distruggo anche la vita spirituale di tanti. Allora io vado in chiesa ma fingo. Questa è l'ipocrisia con il Signore. Quando, cioè, una persona mostra una faccia nella congregazione o davanti alle persone, mentre nella sua vita privata è un'altra persona. E allora è stato cognato un modo di dire che dice quella persona ha un diavolo per capello. Perché? Perché hanno inventato questo detto per le persone che fanno cose illecite, sgradevoli, che si comportano in un modo incorretto. Mostrano una cosa, ma nella realtà sono un'altra persona. Fingono. Pertanto è stato cognato questo modo di dire riferendosi alle azioni di quelle persone che vengono definite come avere un diavolo per capello. Noi non diciamo quella persona ha un diavolo per capello. Noi diciamo a quella persona manca la sincerità. Quella persona è ipocrita con il Signore perché sta predicando, sta insegnando, sta fingendo di avere Dio. ma dall'altro lato sta commettendo dei gravi peccati. Che Dio ci protegga e ci preserva da questo. Che Dio ci aiuti affinché noi non cadiamo in questi errori. E qui, quando stiamo leggendo il Libro degli Atti degli Apostoli, troveremo tante esperienze nelle quali noi saremo edificati spiritualmente. E così imiteremo il buono e faremo attenzione a non imitare il male. Anzi, lo rifiuteremo. E così dice in Atti degli Apostoli capitolo 3. qui parla di Pietro e di Giovanni che erano apostoli del Signore Gesù Cristo. E dice così, or Pietro e Giovanni salivano insieme al Tempio verso l'ora nona, l'ora della preghiera. quando dice qui che salivano insieme al Tempio era il Tempio dei Giudei. Perché non c'era un altro posto dove si potessero congregare gli Apostoli o i discepoli del Signore. Non c'era un altro posto per congregarsi, per lodare il Signore, per glorificare Dio e dimostrare le grandezze di Dio, quello che loro avevano ricevuto da parte del Signore. Come per esempio la manifestazione dello Spirito Santo, i doni spirituali, i miracoli, i segni. E siccome non c'era altro posto, allora si congregavano nel Tempio dei Giudei. E lì pregavano il Signore. E dice nel verso numero 2 «E veniva portato un certo uomo zoppo fin dal grembo di sua madre che ogni giorno disponevano presso la porta del Tempio detta Bella per chiedere l'elemosina». Qui vediamo che non era il Tempio principale ma era una sinagoga e dice «Per chiedere l'elemosina a coloro che entravano nel Tempio». Costui nel verso 3 avendo visto Pietro e Giovanni che stavano per entrare nel Tempio chiese loro l'elemosina. Quindi quella persona a zoppa chiese l'elemosina a Pietro e Giovanni. Allora Pietro con Giovanni fissando gli occhi di lui disse «Guarda noi». ed egli li guardava attentamente lo zoppo era molto attento sperando di ricevere qualcosa da loro. Ma Pietro disse «Io non ho né argento né oro ma quello che ho te lo do». Cos'è che aveva Pietro? Pietro aveva il nostro Signore aveva lo Spirito Santo aveva lo Spirito di Dio questo era quello che Pietro aveva nel suo cuore aveva lo Spirito di Dio e disse allo zoppo «Non ho argento non ho oro ma quello che ho te lo do». E disse «Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno alzati e cammina». E presolo per la mano destra lo sollevò e in quell'istante i suoi piedi e le caviglie si rafforzarono e con un balzo si rizzò in piedi e si messe a camminare ed entrò con loro nel Tempio camminando saltando e lodando Dio gloria al Signore e tutto il popolo lo vide camminare e lodare Dio qui uno vede che cosa uno dei miracoli da parte di Dio infatti gli apostoli cominciarono a realizzare anche loro dei miracoli tramite la potenza di Dio 10 e lo riconobbero per quel tale che sedeva alla porta bella del Tempio infatti il popolo riconobbe quello zoppo perché sempre lui si sedeva alla porta bella per chiedere l'elemosina quindi il popolo riconobbe che colui che era entrato nel Tempio camminando era quello zoppo che chiedeva sempre alla porta del Tempio l'elemosina e furono ripieni di sbigottimento e di stupore per ciò che gli era accaduto 11 ora mentre quello zoppo che era stato guarito si teneva stretto a Pietro e a Giovanni tutto il popolo attonito accorse verso loro al portico detto di Salomone quindi tutto il popolo accorse al portico detto di Salomone quando parla qui del portico di Salomone è una porta di emergenza perché la città di Gerusalemme aveva delle porte di emergenza dove le persone entravano ed uscivano mentre camminavano coloro che avevano dei carri entravano dalla porta principale ma per uscire dalla città camminando usavano dei portici e ogni portico aveva un nome c'era il portico dell'Oriente dell'Occidente del Sud dell'Est dell'Ovest e c'erano questi portici ed ognuno di questi portici come questo di Salomone avevano una porta quindi noi ci possiamo immaginare tutte le persone che accorsero per vedere quel miracolo vedendo ciò nel 12 dice Pietro vedendo ciò parlò il popolo dicendo uomini di Israele perché vi meravigliate di questo o perché fissate su di noi gli occhi come se per la nostra propria potenza o pietà avessimo fatto camminare costui il Dio di Abramo di Isacco e di Giacobbe il Dio dei nostri padri i padri erano gli stessi Abramo Isacco e Giacobbe quindi il Dio dei nostri padri ha glorificato il suo figlio Gesù che voi consegnaste nelle mani di Pilato e rinnegaste davanti a lui nonostante egli avesse deciso di liberarlo qui Pietro sta accusando e giudicando il popolo di Israele perché lo stesso popolo consegnò il figlio di Dio cioè il Signore Gesù Cristo nelle mani di Pilato essendo Pilato uno straniero che non apparteneva al popolo di Israele e quindi Pietro e Giovanni stavano rinfacciando questo al popolo di Israele li stavano giudicando tutti gli israeliti che avevano commesso quelle cose contro il Signore Gesù Cristo e poi dice nel verso 14 ma voi rinnegaste il Santo e il Giusto e chiedeste che vi fosse dato un assassino qui Pietro sta ricordando quello che il popolo aveva fatto quello che era accaduto e quando successero queste cose quando il popolo di Israele cos'è che fece chiese a Pilato di consegnare Gesù Cristo sulla croce del Calvario per essere ucciso perché Gesù Cristo rappresentava il malfattore e Pietro disse al popolo di Israele guardate cosa avete fatto voi avete rinnegato il Signore Gesù Cristo lo avete assassinato in cambio di salvare Barabba leggiamo Luca capitolo 23 leggiamo questa storia Luca 23 dal verso 13 al 25 e leggiamo questo fatto cioè quando il popolo di Israele rinnegò il Signore Gesù Cristo in favore di Barabba che era un assassino quindi il popolo di Israele andò da Pilato dicendogli di non salvare la vita del Signore Gesù Cristo ma di condannarlo a morte ma di salvare invece quell'assassino che aveva commesso tanti crimini cioè Barabba e di lasciare costui libero e lo troviamo anche in Luca Luca capitolo 23 dal 13 al 25 e dice così allora Pilato riuniti i capi dei sacerdoti i magistrati e il popolo disse loro voi mi avete portato quest'uomo come un uomo che perverte il popolo ed ecco dopo averlo esaminato alla vostra presenza non ho trovato in lui nessuna delle colpe di cui lo accusaste e neppure erode perché io vi ho mandati a lui in realtà egli non ha fatto nulla che meriti la morte qui vediamo come Pilato cercava di difendere il Signore Gesù Cristo verso 16 perciò dice Pilato dopo averlo fatto flagellare lo rilascerò ora in occasione della festa di Pasqua il governatore doveva liberare qualcuno vuol dire che ogni anno Pilato era solito liberare un prigioniero o un omicida che era stato in carcere e lo lasciava libero questo era quello che Pilato faceva ogni anno durante la festa della Pasqua che era la festa dei Giudei e precisamente in quei giorni cadeva la festa della Pasqua allora Pilato disse libererò Gesù Cristo ma essi nel verso 18 cioè tutto il popolo ma essi tutti insieme gridarono dicendo vedete qui parlava la moltitudine proprio come quella moltitudine parlò di fronte a Pietro quando Pietro fece il miracolo di guarigione allo zoppo e il popolo guardava quel miracolo era attonito era stupito e Pietro disse al popolo voi voi avete consegnato il giusto il santo a Pilato senza avere nessuna considerazione e per questo nel verso 18 dice ancora una volta ma essi tutti insieme gridarono dicendo a morte costui e liberaci Barabba Barabba era l'assassino e dice nel verso 19 questi era stato incarcerato per una sedizione fatta in città e per omicidio perciò Pilato desiderando liberare Gesù parlò loro di nuovo ma essi gridarono dicendo crocifiggilo crocifiggilo e per la terza volta egli disse loro ma che male ha fatto costui diceva Pilato io non ho trovato in lui nel Signore Gesù Cristo alcuna colpa che meriti la morte perciò dopo averlo fatto flagellare lo rilascerò ma quelli insistevano con grandi grida chiedendo che fosse crocifisso e le loro grida e quelle dei capi dei sacerdoti vedete qui c'erano i capi dei sacerdoti giudei finirono per prevalere Pilato allora decise che fosse fatto ciò che chiedevano ciò che chiedeva il popolo e rilasciò loro colui che era stato incarcerato per sedizione per omicidio cioè Barabba e che essi avevano richiesto e consegnò Gesù alla loro volontà alla volontà del popolo che crudele il popolo ritornando agli atti degli apostoli capitolo numero 3 verso 14 dice ma voi rinnegaste il santo e il giusto diceva Pietro al popolo e chiedeste che vi fosse dato un assassino e uccideste il principe della vita che Dio ha risuscitato dei morti e del quale noi siamo testimoni disse così Pietro al popolo e per la fede nel suo nome il suo nome ha fortificato quest'uomo questo Signore Gesù Cristo che voi vedete e conoscete e la fede che si ha per mezzo suo gli ha dato questa completa guarigione in presenza di tutti voi significa che nel nome del Signore Gesù Cristo che nel nome del Figlio di Dio di quel Gesù Cristo che fu disprezzato che fu giudicato e condannato e morto ma che ora questo Gesù che è risuscitato ora si stava manifestando nella vita dei cuori dei Suoi seguaci perciò si stava formando da quel momento in poi la Chiesa del Signore il popolo vero di Dio quel popolo di Israele in senso spirituale quel popolo che Dio ha sempre voluto formare sin dall'inizio ha sempre voluto innalzare un popolo speciale unico un popolo santo perfetto diverso dalle altre nazioni dagli altri popoli sparsi nel mondo e che Dio voleva manifestarsi in quel popolo e voleva governare ed esserne il re e benedire quel popolo quel popolo doveva conoscere la pace e la felicità doveva conoscere le benedizioni ma doveva anche camminare col Signore doveva camminare nelle mani del Signore compiacendo il Signore perché questo era il piano ideato dal Signore nei Suoi pensieri nella Sua mente e Dio formò il popolo di Israele per questo motivo attraverso Mosè ma quel popolo sbagliò nei confronti del Signore e guardate qui cosa hanno fatto non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo e siccome non hanno creduto nel Signore Gesù Cristo siccome quel popolo ha peccato e nessuno era meritevole delle benedizioni di Dio perché non c'era nemmeno uno che facesse la volontà di Dio allora Dio cos'è che fa ha un piano B e in questo piano B lui prevedeva di formare un nuovo popolo spirituale un popolo di Israele spirituale cioè un popolo santo nel quale Dio potesse stare in mezzo a questo popolo potesse stare nei cuori dei Suoi seguaci spandendo lo Spirito Santo in quei cuori per questo Dio pianificò la venuta del Santo del Giusto cioè del Signore Gesù Cristo il Messia Dio pianificò tutto ciò e Dio infatti divenne carne ed ossa cioè un essere umano per un certo periodo e stette con le persone di quell'epoca e abitò e si comportò come un essere umano quella carne che Dio formò fu chiamata Gesù di Nazareth e Gesù di Nazareth cominciò a fare l'opera di Dio e Gesù Cristo cominciò a compiere tutti i comandamenti perché lui si comportò come un essere umano ma compì tutti i comandamenti compì prima tutta la legge di Mosè tutti i regolamenti precetti ordini statuti Gesù Cristo compì tutto quanto per poi annullare la legge di Mosè perché lui sapeva il piano che sarebbe arrivato in futuro lui sapeva che sarebbe arrivata la morte la sua morte ma anche la sua risurrezione per quello Gesù Cristo comincia a formare il suo popolo partendo dagli apostoli dando loro degli ordini degli insegnamenti prima insegna loro la legge che bisognava compiere la legge e poi comincia ad insegnare loro anche riguardo al regno dei cieli insegnare che sarebbero arrivati i giorni migliori in futuro che sarebbe arrivata la vera felicità la vera pace che veniva il camminare il vivere con Dio abitare col Signore che sarebbero arrivati quei momenti quell'epoca si stava avvicinando e gli apostoli credettero al Signore Gesù Cristo e lo seguirono soffrirono insieme a Lui ma il Signore diede loro potenza il Signore Gesù Cristo quando morì e poi risuscitò diede potere agli apostoli affinché loro potessero resistere nei giorni brutti nei momenti della difficoltà della tribolazione nel momento della persecuzione da parte del diavolo e infatti gli apostoli furono forti coraggiosi nella via del Signore affrontando il popolo di Israele affrontando il popolo giudeo affrontano il popolo e vediamo i miracoli l'opera la misericordia che il Signore cominciò a realizzare tramite gli apostoli perché era l'inizio della Chiesa o di quel popolo santo perfetto di quella Siono vera di quella Gerusalemme spirituale di quel popolo di Israele spirituale quindi si cominciò a formare il popolo di Israele a livello spirituale e noi ci sentiamo orgogliosi perché facciamo parte di questo popolo spirituale e poi abbiamo la presenza di Dio dei doni spirituali perché gli apostoli più di duemila anni fa vissero tante esperienze ma anche noi oggi viviamo tante esperienze sentendo la presenza dello Spirito Santo nella nostra vita gloria al Signore per questo noi crediamo in Dio che Dio vive gloria al Signore continuiamo adesso con la lettura e adesso ci siamo ubicati nel contesto siamo un popolo nuovo siamo il popolo di Israele spirituale non esiste più il popolo di Israele fisico perché ormai è nel dimenticatoio quello materiale ora oggi continua il popolo di Israele a livello spirituale e questo popolo è sparso in tutto il mondo e continuerà a crescere mediante gente di tante nazionalità che crederà nel Signore Gesù Cristo lo seguiranno e così riceveranno il potere dello Spirito Santo e dice nel verso numero 17 ma ora fratelli io so che lo avete fatto per ignoranza come hanno fatto pure i vostri capi si sono comportati così cioè hanno condannato il Signore Gesù Cristo a morte per ignoranza 18 ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti gloria a Dio profeti come Esaia Osea Gio 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 Amos Zaccaria Ezechiele tutti loro Daniele tutti quei profeti anche Mosè tutti loro avevano parlato avevano annunciato e avevano profetizzato riguardo a quello che sarebbe arrivato in futuro e il futuro era Gesù Cristo di Nazareth con il suo nuovo popolo con la sua chiesa con il nuovo metodo di salvezza tramite il Vangelo del Signore Gesù Cristo questo è quello che annunciarono i profeti nell'antichità quindi dice ma Dio ha così adempiuto le cose che egli aveva predetto per bocca di tutti i suoi profeti e cioè che il Cristo avrebbe sofferto perciò ne dice nel 19 ravvedetevi dunque convertitevi perché disse così Pietro ravvedetevi perché perché loro erano stati quei malfattori che avevano condannato un giusto avevano condannato il Signore Gesù Cristo alla pena di morte ecco perché qui l'Apostolo Pietro dice al popolo adesso ravvedetevi pentitevi dunque pentitevi perché avete consegnato Gesù di Nazareth lo avete consegnato a Pilato e lo avete condannato a morte pentitevi dunque e convertitevi affinché i vostri peccati quindi qui dice convertitevi al Signore Gesù Cristo credete che Gesù Cristo è lo stesso Dio è l'inviato di Dio è il promesso è il precursore della salvezza è il re perfetto che governerà infatti aveva già iniziato a governare e tutt'oggi questo re perfetto governa ed è il Signore Gesù Cristo e Pietro diceva convertitevi a lui credete in lui confidate in lui lui è uno spirito lui non è è una statua lui non è un'immagine lui non è un disegno no lui è uno spirito perché Dio è uno spirito allora diceva convertitevi al Signore Gesù Cristo affinché i vostri peccati siano cancellati e perché vengano dei tempi di refrigerio dalla presenza del Signore ed egli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi e quando Dio Padre gli invierà di nuovo il Signore Gesù Cristo un giorno invierà dalle nuvole dice così la parola di Dio dalle nuvole un giorno verrà il Signore Gesù Cristo a raccogliere la sua chiesa che in quel momento sarà composta da gente di tante nazioni e come si dice Isaia dai confini della terra questa gente volerà come delle colombe come degli uccelli e si riuniranno in un unico posto dove starà il Signore e lì starà nascosto dalle nuvole perché il Signore sarà nascosto dalle nuvole il Signore sarà lì a ricevere la sua chiesa e il suo popolo e questo succederà succederà anche se noi saremo già morti non fa nulla perché i morti risusciteranno coloro che sono morti in Cristo risusciteranno voleranno come delle colombe alla presenza del Signore che sarà nelle nuvole così dice la Bibbia e noi crediamo in questo e poi dice venti ed è gli mandi Gesù Cristo che è stato predicato prima a voi che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose qui diceva è necessario che il cielo riceva il Signore per un certo periodo fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose e la restaurazione di tutte le cose significa il compimento dell'opera di evangelizzazione in tutto il mondo quando il Signore disse agli Apostoli andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo ad ogni creatura ad ogni essere e colui o con lei che crederà sarà salvato mentre chi non crederà sarà condannato quindi questa è la restaurazione dovrà avvenire questo che tutti crederanno rileggiamo il verso 21 che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione quindi il cielo deve ritenere il Signore Gesù Cristo quando lui ha sceso al cielo deve rimanere lì il Signore Gesù Cristo fino al tempo della restaurazione di tutte le cose quindi fino a quando il Vangelo sarà predicato in tutto il mondo e quando la Chiesa quindi sarà conformata da Apostoli Profeti Maestri Evangelisti e Pastori quindi tutte le Chiese del Signore devono avere questi requisiti per poter dire stiamo camminando nella via del Signore quando la Chiesa sarà perfetta e santa perché i doni spirituali degli Apostoli dei Profeti dei Maestri degli Evangelisti loro si incaricheranno di perfezionare ogni credente ogni uomo ogni donna santificarli con i doni spirituali perché Dio rivelerà al profeta che quel credente per esempio non cammina bene nei confronti del Signore che sta commettendo quel peccato e allora sarà ammonito e quella persona dirà mi pento oppure esco dalla Chiesa prendo una decisione o mi pento perché io voglio seguire la via del Signore oppure me ne vado se si pente vuol dire che è santificato e comincia a vivere una vita retta e perfetta davanti a Dio questo è il lavoro degli Apostoli dei Profeti degli Evangelisti dei Maestri dei Profeti sono in Chiesa per pulire e per perfezionare i cuori di tutti coloro che arrivano e che vogliono seguire la via del Signore allora si insegna la parola del Signore e anche la dottrina e qui quindi nel verso 22 certo nel 21 non l'abbiamo terminato e dice quindi che il cielo deve ritenere fino ai tempi della restaurazione di tutte le cose dei quali Dio ha parlato per bocca di tutti i Suoi Santi Profeti fin dal principio del mondo Mosè stesso infatti disse ai padri Mosè disse quindi ad Abramo a Isacco a Giacobbe ai figli di Giacobbe disse il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli ascoltatelo in tutte le cose che Egli vi dirà significa che Mosè stava dicendo che Dio avrebbe innalzato un profeta come Mosè e quel profeta era il Signore Gesù Cristo ma leggiamo in Deuteronomio capitolo 18 Deuteronomio capitolo 18 dove vediamo dove vediamo che la promessa fu compiuta qui in Deuteronomio capitolo 18 e leggiamo dal verso 15 al 19 queste sono le promesse quindi noi dobbiamo comprovare quello che stava dicendo il profeta il profeta Mosè e dice così Deuteronomio capitolo 18 verso 15 L'Eterno il tuo Dio susciterà per te un profeta come me in mezzo a te fra i tuoi fratelli a lui darete ascolto in base a tutto ciò che chiedesti all'Eterno il tuo Dio in Oreb il giorno dell'assemblea quando dicesti che io non ho da più la voce dell'Eterno il mio Dio e non veda più questo gran fuoco perché non muoia e l'Eterno mi disse ciò che hanno detto va bene io susciterò per loro un profeta come te di mezzo ai loro fratelli e porrò le mie parole nella sua bocca nella bocca di quel profeta riferendosi al nostro Signore Gesù Cristo quindi porrò le mie parole nella sua bocca ed egli dirà loro tutto ciò che io gli comanderò e avverrà che se qualcuno uomo o donna non ascolterà le mie parole che egli dirà in mio nome io gliene domanderò conto quindi qui Dio sta dicendo che se qualcuno non ascoltava le parole di quel profeta che era il Signore Gesù Cristo di Nazareth il figlio di Dio lo stesso Dio allora chi non ascoltava le parole del Signore Gesù Cristo sarebbe stato castigato da Dio e questo è molto triste noi non vogliamo neanche immaginare questo non vogliamo neanche immaginare cosa possa accadere a quelle persone che disprezzano il Signore Gesù Cristo che lo rigettano Dio li castigherà perché non hanno creduto in Lui torniamo ad Atti degli Apostoli capitolo 3 verso 22 dice Mosè stesso infatti disse ai padri il Signore Dio vostro susciterà per voi un profeta come me in mezzo ai vostri fratelli abbiamo già letto questo in Deuteronomio lo abbiamo confermato di come Mosè si era rivolto a tutto il popolo di Israele dicendo che Dio avrebbe innalzato un profeta come lui e che quel profeta doveva essere ascoltato quindi dice ascoltatelo in tutte le cose che egli vi dirà perché sarà un profeta come me quindi ascoltatelo in tutte le cose che vi dirà 23 e avverrà che chiunque quindi uomo o donna che sia essere umano e avverrà che chiunque non ascolterà quel profeta sarà distrutto tra il popolo quindi sarà distolto dalla presenza di Dio e quel profeta era il Signore Gesù Cristo quindi gli apostoli stavano predicando del Signore Gesù Cristo stavano menzionando il Signore Gesù Cristo raccontando al popolo di come già nell'antichità Dio aveva annunciato la venura la venuta di questo grande profeta e che sarebbe stato un profeta come Mosè e che doveva essere da tutti ascoltato venerarlo questa era la predicazione degli apostoli e qui dice nel 24 e parimenti tutti i profeti fin da Samuele e nei tempi seguenti tutti quelli che hanno parlato hanno anche preannunciato questi giorni dice che anche il profeta Samuele oppure il re Davide era una conoscenza della venuta di questo grande profeta in futuro perché Dio aveva rivelato loro questo noi vediamo per esempio nel libro profetico di Isaia che si parla del Signore Gesù Cristo si parla di lui si parla del re che sarebbe arrivato del salvatore che sarebbe arrivato in futuro anche in Ezechiele profeta anche in Geremia noi vediamo che tutti quei profeti profetizzarono nell'epoca del re riguardo alla venuta del Signore Gesù Cristo tutti profetizzarono riguardo a quel gran profeta che sarebbe arrivato in futuro qui gli apostoli nominavano quel gran profeta dicevano nei loro insegnamenti a tutto il popolo che ascoltava i discepoli gli apostoli parlavano del Signore Gesù Cristo come quel gran profeta e che doveva essere ascoltato quindi gli apostoli predicavano del Signore Gesù Cristo di Nazareth vedete quanta prudenza che gli apostoli usavano per parlare del Signore Gesù Cristo dicevano di lui che era un grande profeta per evitare di essere lapidati se continuavano a definirlo anche in altri modi e a risaltarlo tantissimo però lo definivano come gran profeta poi qui dice e parimenti tutti i profeti fin da Samuele e nei tempi seguenti tutti quelli che hanno parlato hanno anche preannunciato questi giorni voi siete figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri guardate come gli apostoli con tanta prudenza stavano predicando stavano predicando al popolo che era lì certo il popolo era lì curioso perché avevano appena visto il miracolo fatto a quella persona zoppa ma gli apostoli parlavano in un modo prudente in un modo anche sottile perché volevano parlare del Signore Gesù Cristo in un modo saggio perché rischiavano di essere lapidati infatti qui nel 25 dice voi siete i figli dei profeti quindi qui gli apostoli stanno dando importanza al popolo stanno dando un titolo al popolo gli apostoli non dissero al popolo siete dei malvagi non conoscete la parola di Dio avete peccato vi condannerete non dissero così anzi dissero loro voi siete i figli dei profeti chissà il popolo come si sentì in quel momento quando avevano di fronte gli apostoli che dicevano siete i figli dei profeti il popolo poteva dire che bello sono importante vedete la prudenza la saggezza la sottigliezza con la quale gli apostoli predicavano il Signore Gesù Cristo quelle persone che erano irascibili furiose perché loro non credevano nel Signore Gesù Cristo allora bisognavano convincerli in un modo o nell'altro gloria al Signore e noi ringraziamo Dio perché Dio ci dà tutti gli strumenti utili quindi nel 25 voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri dicendo ad Abramo e nella tua e nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette che bello sarebbe leggere in Genesi Genesi capitolo 22 dal 15 al 18 per vedere la promessa che Dio fece ad Abramo riguardo a quello che gli apostoli stavano predicando in questo momento quindi Genesi capitolo 22 dal 15 al 18 e leggiamo perché tutta la lettura è importante ma non c'è tempo per leggere tutto e dice nel verso 15 di Genesi capitolo 22 e l'angelo dell'Eterno chiamò dal cielo Abramo una seconda volta e disse io giuro per me stesso dice l'Eterno poiché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio l'unico tuo figlio ricordiamo quello che è accaduto ad Abramo Dio disse ad Abramo di sacrificare il suo figlio Esacco e Abramo sacrificò suo figlio Esacco lo stava per sacrificare perché Abramo voleva compiacere il Signore in tutto e quello fu un ordine di Dio e quindi Abramo stava per sacrificare il suo unico figlio e mentre lo stava per sacrificare l'angelo del Signore fermò Abramo dicendogli basta tu non toglierai la vita di tuo figlio con la tua mano è sufficiente ho provato la tua fede ho provato la tua obbedienza mi hai ubbidito vedo che mi ami perché mi ami più di tuo figlio allora disse l'angelo ad Abramo basta fermati guardate il premio che ricevette Abramo e il premio è questo quindi l'angelo dell'Eterno disse ad Abramo io giuro per me stesso dice l'Eterno perché tu hai fatto questo e non l'hai risparmiato tuo figlio l'unico tuo figlio io ti benedirò largamente e moltiplicherò grandemente la tua discendenza come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare e la tua discendenza possederà la porta dei suoi nemici quindi la tua progenie parlando di che cosa vediamo che cos'è la progenie e chi è la progenie di Abramo 18 e tutte le nazioni della terra saranno benedette nella tua discendenza perché tu hai ubbidito alla mia voce allora qui vediamo che Abramo ha ubbidito all'ordine del Signore e ha ricevuto una discendenza grande come le stelle del cielo come la sabbia del mare e che quella discendenza avrebbe posseduto la porta dei suoi nemici quindi la discendenza di Abramo sarebbe stata un popolo santo che avrebbe posseduto la porta del regno del Signore Gesù Cristo sicuramente c'è già questo popolo santo un popolo perfetto perché il Signore Gesù Cristo dice che perfezionerà la sua chiesa per essere santa pura senza macchia da presentarla a se stesso un giorno e allora questa fu la promessa di Dio ad Abramo ritorniamo nuovamente ad atti degli apostoli capitolo 3 verso 26 anzi nel 25 voi siete i figli dei profeti e del patto che Dio stabilì con i nostri padri dicendo ad Abramo ricordatevi che l'angelo dell'eterno si presentò ad Abramo e le disse nella tua progenie tutte le nazioni della terra saranno benedette e la progenie di Abramo è il Signore Gesù Cristo lui è la progenie di Abramo mentre la discendenza sapete chi è la discendenza di Abramo quando dice in Genesi che la discendenza di Abramo possederà la porta dei suoi nemici la discendenza sono i veri credenti del Signore Gesù Cristo i seguaci del vero Vangelo coloro che avranno i doni dello Spirito di Dio che avranno il potere di Dio la potenza dall'alto che saranno rivestiti dalla potenza dall'alto per fare miracoli segni per dimostrare al mondo la potenza di Dio che si manifesta in un essere umano che ha creduto nel Signore Gesù Cristo e che si è convertito nel popolo di Dio in un popolo santo nella discendenza di Abramo nella progenie di Abramo la progenie cioè Gesù Cristo che è la progenie gloria al Signore e dice nel 26 a voi per primi Dio dopo aver risuscitato il suo figlio Gesù lo ha mandato per benedirvi purché ciascuno di voi si converta dalle sue malvagità perciò quella fu la predicazione di quei due discepoli Pietro e Giovanni loro erano nel Tempio detta Bella e stavano predicando dicendo al popolo che le meraviglie che loro avevano appena fatto che Pietro e Giovanni avevano appena fatto e che il popolo stava vedendo per esempio il miracolo della persona a zoppa non era altro che la manifestazione della progenie santa la progenie la discendenza di Abramo il nostro Signore Gesù Cristo il promesso quella promessa detta dalla bocca di tutti i profeti dell'antichità da Mosè in avanti e tutti loro parlavano già nell'antichità dell'arrivo del Signore Gesù Cristo e Pietro e Giovanni in quel momento trasmettevano quella predicazione quell'insegnamento al popolo dicendo da adesso in poi anche voi potete partecipare partecipare a questa discendenza gloria a Dio noi oggi sono trascorsi sì più di duemila anni ma Dio non si è mai dimenticato della sua gente e noi oggi siamo qui di fronte ad un Dio che è uno Spirito a un Dio di potenza che si è manifestato nella nostra vita abbiamo visto tanti miracoli tanti guarigioni per esempio la guarigione dello zoppo e noi lo vediamo anche oggi oggi noi vediamo grandi prodigie miracoli che Dio fa in tanti modi lo Spirito Santo si è manifestato nella nostra vita Dio ci ha fatto promesse meravigliose ormai sono quasi 60 anni che Dio ci promette e poi compie ogni giorno sempre di più lui compie le sue promesse e siamo qui alla presenza dello Spirito Santo desiderando ardentemente i doni spirituali che tutti possano ricevere i doni spirituali che tutta la congregazione che è in più di 60 o 70 paesi nel mondo che in tutte le congregazioni di Dio che lo Spirito di Dio si manifesti con i doni spirituali che Dio dia la potenza dall'alto per poter fare meraviglie miracoli prodigi nel nome di Gesù Cristo di Nazareth il Figlio di Dio Dio stesso il nostro Re il nostro Signore l'onore e la gloria siano per Dio vi invito a leggere la Bibbia leggete la Bibbia ma leggetela con il cuore non leggetela come una storia qualsiasi come un libro di letteratura di narrazione leggete la Bibbia come se stesse Dio che vi sta parlando perché è la parola di Dio lui vi sta parlando ecco dovete leggerla in questo modo come se Dio in quel momento è lì che vi sta dando degli ordini e in questo modo arriverà la potenza dall'alto e vi rivestirà e allora voi avrete un cambiamento nella vostra vita trasformazioni e il vostro cuore si rallegrerà adesso preghiamo il Signore Padre Santo Padre Celeste Dio di Abramo di Isacco di Mosè Dio dei dodici figli di Israele di Giacobbe con i quali tu hai formato una nazione ai quali tu hai parlato ai quali tu ti sei manifestato ai quali tu hai dato leggi statuti da compiere Signore la tua parola non è mai cambiata perché tu sei sempre lo stesso di ieri e di oggi tu sei il Dio onnipotente e oggi noi sentiamo la tua presenza come quel Dio che ha parlato ieri ad Abramo e a Mosè e noi ti sentiamo così oggi allo stesso modo Signore tu sei lo stesso gloria al tuo nome l'ho dato il tuo nome per sempre benedetto il Signore grazie mio Dio grazie Signore ti chiedo Padre mio che tu ci rivesta dalla potenza dall'alto a tutti innalza in ogni congregazione apostoli profeti evangelisti di maestri e grandi pastori innalzali Signore in ogni tua casa per il perfezionamento della Chiesa affinché tutti vivano una vita santa e retta davanti a te perché tu te lo meriti perché tutti ti lodino ti cerchino affinché amino il tuo nome e ti glorifichino Padre perché tu sei degno degno delle lodi degno dell'onore della gloria gloria a te Signore grazie mio Dio chiediamo la tua misericordia oggi guarigioni guarigioni Signore guarda quante malattie che ci sono nel corpo fisico Signore c'è la decadenza fisica Signore guarda l'usura psicofisica che produce malattie negli esseri umani stendi la tua mano compi segni miracoli guarigioni libera Signore inoltre Signore guarda che ci sono anche le malattie spirituali e psichiche come la stregoneria come le maledizioni i malocchi guarda Signore tutta l'opera del maligno tutti gli spiriti malvagi che tormentano una persona per toglierle la pace togliere la felicità il senno il ragionamento Signore abbi misericordia nel nome glorioso di Gesù Cristo tuo figlio amato ti chiediamo Signore stendi la tua mano potente sopra ogni carne sopra ogni persona che è malata che ha bisogno di te stendi la tua mano guaritrice e puliscici Signore guariscici Signore riprendi il maligno affinché non ci faccia del male aiutaci Signore a servirti a fare la tua volontà perché vogliamo compiacerti Padre grazie nel nome glorioso di Gesù Cristo amén gloria al Signore gloria a Dio Io sei che stai qui Signore Io sei che stai qui Io sei che stai qui Signore Io sei che stai qui Io sei che stai qui Signore Io sei che stai qui Io sei che stai qui Signore Io sei che stai qui Mi alma Io sei che stai qui Mi alma Che stai bene e che riceviate tante benedizioni da parte di Dio Tanti abbracci e baci per i bambini come sempre Che Dio vi benedica che benedica anche i fratelli e le sorelle che sono qui con me oggi Grazie mille e a presto Grazie